Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, che ha maggiore edificazione dei popoli, e ha gloria della religione. Ci hai avete mostrato in San Francesco di Sales, il più perfetto modello della vera virtù. Infondete nelle nostre anime. Tutto lo spirito della sua dolcezza. Tutto l'ardore della sua carità. Tutta la forza della sua profonda umiltà. Affinché possiamo giungere un giorno. A godere con Lui la gloria del cielo. E ad amar voi per tutti i secoli. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco di Sales. Pregate per noi.